Il suino classico Il suino a scacchi di big pork Usiamo questo qui Andiamo Oh mio dio che dropper Raga Ok che dite ci buttiamo Allora è 5 minuti a round Ok raga facciamo molta attenzione Da tanto che non faccio un wink sweet Un po' più avanti Ok 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 Fino a qua ci siamo No ha sbattuto il testolino Raga non è valido Comunque nella descrizione ho letto che era Veri veri easy Vediamo Ok Oh raga non mi gira No 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 Già faccio così raga Metrollo ve lo dico eh O metrollo Oppure Vai dietro Cosa sta succedendo raga No raga non potevo più girare Mannage america Sono un po' di mesi che non faccio il wink sweet Quindi E' un po' difficile A parte che fino adesso è solo un dropper Poi c'è il vero e proprio wink sweet Indietro 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 Ok fino a qua ci siamo No Questa parte bianca prima non l'avevo visto Oh raga troppo veloce Ok c'era pure un altro suino a scacchi Dai raga due minuti alla fine Dobbiamo consegnare qualcosa almeno eh Oh vedi chi c'è sta Er gufo Asui mi sparo un bel potere qua Olè Asui Sta attento con sti poteri eh Asui che te spari sti sorti Perché ci abbiamo le molotov Braciola come stai Stai bene Guarda come me butto Aspettate raga con stile eh Con stile andiamo a consegnare Uno due E olè Suina a fuoco Suina a fuoco raga Qua come faccio Ok No C'ero quasi Raga Vi giuro che non è difficile Ho fatto dei wink sweet Proprio super difficili Aspettate eh Ok Andiamo giù Come si è buttato il suino Perché non prende a fuoco Dai tanto c'è anche un altro round eh State tranquilli Che prima o poi si consegna Un po' più avanti Un po' più indietro Ok Oh mio Dio E io dove devo consegnare? La valigetta Ho preso la valigetta? Qui? Sì Ho consegnato Ho consegnato Fries Non so cosa sia Me l'ha dato il punto? Eccolo qua Un bel punto per il suinos Aspettate eh Dai sui prendi a fuoco e buttati No raga non rimani Con la fiamma Ah è quasi finito raga Riesco a consegnare all'ultimo secondo Che dite? Un po' più avanti No 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 Troppo Mannaggia il big dropper eh Dai comunque questo round ce lo siamo portati a casa L'importante è questo eh Ma questa palla non va giù? Eh no Aspettate eh Asui No perché ha fatto liscio Ok No lo buttate sotto raga Però guardate qui Round vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Dai questa volta consegniamo almeno tre volte eh Ve lo dico Ma questi aerei qua Cosa stanno combinando? Vorrei sapere Se io prendo questo aereo Sali con me stiui Oh mio dio che spettacolo da qua Ma c'è il turbo raga Eh Ok Non so cos'è successo raga Non mi chiedete nada Allora Facciamo così Olle Se io mi Un po' più avanti Se io mi rigiro così Perfetto Aiuto 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 Cioè stiui qua Dai io sui che andiamo a consegnare insieme Oh mio dio sui Oh mio dio Dove stanno le valigette? Presa? Andiamo a consegnare? Consegnato? Come no? Era giusto Ma che ne so Mi sa che pure stiui L'aveva consegnato E non gli ha consegnato Ok Un po' più avanti Siamo perfetti Dai che sto imparando Adesso tutto giù Aiuto Ok 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 Qua dobbiamo consegnare raga Una valigetta Non ho preso la valigetta Ma il gufo Ah no Era riuscito pure lui A raccogliere Il free S E' solo che poi Non so cosa sia successo Un po' più avanti Indietro 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 Cosa è successo? No proprio ora Come? E vabbè Ci abbiamo un altro round Ok Nuo round Anzi Ultimo round Perché chi vince questo Vince tutto Quindi Dobbiamo vincere Abbiamo pure i tatti in squadra Ma che stai a fare squadra nostra? Sui Aspettate Ma con me c'è questo aereo Raga Questo è mio ora Ok Andiamo indietro Non va indietro? Si che ci va Si che ci va No no Si sta spegnendo? Perché non va? No è incastrato Oh mio dio Eh raga Non potevo andare avanti Però guardate un po' Ho ridotto in poltiglia X Lorenzo Mythic Quindi va più che bene Allora A parte gli scherzi Già abbiamo sprecato un minuto Eh E in quel minuto Potevamo consegnare almeno 27 valigette Ma noi ne consegneremo di più Ok Fino a qua ci siamo Delicati Delicati Dov'è? Dov'è la valigetta? Una valigetta almeno Raga Per favore Adesso Mi dovete dire Cosa è successo Perché ho preso Quella valigetta E poi Non lo so cosa è successo Raga Vi giuro Non mi chiedete Non mi chiedete Siamo precisi Un po' più avanti Sono precisi Troppo avanti Sbattire il testolino No Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Una valigetta almeno Avevo detto Una valigetta Raga Non l'ha presa Non l'ha presa Non l'ha presa La valigetta Mannaggia America Manca un minuto Alla fine Sui Mamma mia Tearo eh Io vado giù Scappo via Mi dispiace Se vuoi Andiamo giù insieme Ok Mamma mia La perfezione Raga D'occhio Non ci rigiriamo così Poi così Poi andiamo avanti Aiuto Aiuto Valigetta Sta qui La prendo Raga Io mi ritiro Vi giuro Non Non capisco Già è difficile Scendere giù In più Non riesco a prendere La valigetta Lorenzo Consegnato pure No 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 Raga Aspettate eh Aspettate che qui La situation Non va bene Ok Dove sta Questa valigetta Vorrei sapere Dove è Una valigetta Raga Presa Si Ma perché Non consegna Raga Cosa sta succedendo Qua Non l'ho mai visto Questo finale Io Ok Ultimo round Chi vince questo Vince tutto eh Ho messo pure mattina E andiamo Ancora l'aereo Raga Mettiamoci bene Devo dire che Ho iniziato bene Ma non è che Hanno trovato Un modo per città Eh questo Non lo so Raga Se in caso Consegnano tutti All'improvviso Ma come che Tatt ha consegnato Tatt ha citato eh Però della mia squadra Sui Fatto bene Non Non succede niente Tranquillo Ok Noi non cittiamo La nostra base è di là Ok Ho consegnato Raga Sapete perché Prima non consegnava Perché sbagliavo Sbagliavo squadra Raga Non mi dire che Ho sempre sbagliato Tranne il primo round Quando avevo consegnato No no Non ci voglio credere Non ci voglio credere Raga È uno scherzo Vero Credo di sì Credo Proprio Di sì Una valigetta per me Sì Mamma mia Due valigette di seguito Consegnate Questo sì Che è un bel round Dai È la terza di seguito Voglio Voglio la terza di seguito Se tutto va bene qui Ce la possiamo fare Pure con un bel 360 Non sbattere il testolino Sui Olè Fino a qua ci siamo Ok No 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 Troppo alto L'abbiamo ripreso La valigetta sta qui Non ci voglio credere Abbiamo consegnato la terza di seguito Raga Questo round è favoloso Il migliore Per festeggiare ci spariamo Un bel 360 qui Forse era meglio di no questo festeggiamento Ma pensavo che faceva più giri Dai raga Ora non posso più fare La quarta consegna di seguito Perché ormai Non si può A parte che adesso Stiamo andando leggermente male Ok Wow ci siamo Andiamo Valigetta Oh riprenditi Ho consegnato Ho consegnato E sono veramente felice Mannaggia mia Almeno un'altra Quelli della mia squadra Non stanno consegnando niente Raga non so se sono dritto Se sono dritto Mi rigiro così Ligeramente più avanti Oh raga Troppo avanti Siamo qui eh No Lori l'aveva fatto giusto Il punto Perché come vedete Sta facendo il wingsuit Eccolo qui lo superiamo Ma sui come ho fatto a superarti Valigetta Si Questa volta Non ha consegnato Raga mi spiegate Perché non ha consegnato Abbiamo vinto Però Non lo so il perché Vincitore Comunque sia Se vi è piaciuta questa cattura Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate anche nel mio secondo canale Big Pork Saluti questi suini Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti